Il giorno dopo il K.O. di Scordia, il DS del Giarre Vincenzo Pagano aveva ribadito il concetto a chiare lettere. L'incontro di domenica col Biancavilla sarà decisivo, perderlo vorrebbe dire compromettere quasi definitivamente la corsa ai playoff. Non si tratterebbe ovviamente di condanne matematiche, dato che ci sarebbero altre sei partite da giocare da qui fino a fine stagione, ma gli incroci del calendario renderebbero poi difficilissima la rimonta degli etnei, attualmente seste in classifica a tre punti di distanza dal Camaro e a cinque dallo Scordia. Entrambe le rivali dei gerresi hanno impegni sulla carta agevoli, i messinesi a Caltagirone, lo Scordia contro un Adrano ormai in disarmo. E' così che l'impegno degli uomini di Mascara contro la vice capolista Biancavilla diventa quasi una prova senza appello. Gli uomini di Tommaso Napoli sono in grande spolvero e sperano ancora in un passo falso della capolista città di Messina per insidiare il primo posto, lontano al momento sei punti. I gialloblu del presidente Furnari arrivano al regionale col miglior attacco della categoria, 57 reti segnate, la terza miglior difesa, sono 14 gol subiti in 22 partite. Per risolvere il rompicapo Biancavilla servirà dunque il miglior giarre che, nonostante le squalifiche di Santito e San Filippo e il dubbio curcuruto, dovrà anche provare a sfatare il tabù scontri diretti, dato che tra andate e ritorno non ha ancora vinto una partita con le prime cinque della classe. Un salto di qualità da compiere necessariamente per provare ad acciuffare in corsa l'ultimo treno per i playoff.